Ecco tornati a GameHunger Il gioco che si chiama, o lo vediamo oggi, è TAPEASHA CREEPPER TAPEASHA CREEPPER CREEPPER TAPEASHA CREEPPER Vabbè, comunque PLAYERY YEHUHUHU Eh, non ti è contento Cosa è? È la persona È la persona È giusto una... drago Drago Che è figo Eh, scusa Che è figo Allora tu sei il pistolo, la metriatrice Ma cosa c'è la metriatrice? Ah C'è una capilla di questo Che è 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 una capilla di questo Ok Barber Ah, Cool Boy Ok, devo fare altre cose? La bomba? No, Cool Boy Ok Play Ah Skip, 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 skip Mi dò abbassare quando mi spalano Ok, Play 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 Nooo 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 E' scherzo, la gradata Sì Ah, adesso è ancora pronta Mi abbasso E poi Apri in posizione Yuhuu ok grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti ahahah allora la vita vita totale che devo fare qua comprare, upgrade, upgrade non continui non skip ahahah eeeh questo è avuto con l'ascia basta basta uh uh basta uh basta uh uh pacificator questo va del casino ahahah ahahah yeah 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 tutto tutto togliere yeah ah ah tu puoi upgrade le cose vero vero ne abbiamo 400 questo questo qua ma cosa aumenta non no no po' 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 un'appograzione non no allora ok fatto abbiamo potuto le due e allora meglio meglio ma ci abbiamo cattuccio oh siete troppi oh non vogliono carriamo 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 la 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 ma ancora ho credo scusa devo passare al 2 per fare ma ho scoperto questo voglio andare a trovare al 2 eh si comprare io non comprare lo può gradare questo ahhh capisci hai capisci siamo a livello 2 caricatore a livello 2 questo è a livello 2 questo cosa patchback come faccio il patchback ma lo so capite cosa livello 2 abbiamo scelto 86 poi non posso fare più niente andiamo vai 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 skip 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 notte let's go ma guarda diventi guarda in lo fai a volare oh posso fare a volare ma l'uomo ma l'uomo ma l'uomo ma l'uomo ma l'uomo sono troppi si questo siiii pacificatore si pacificatore pacifica 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 oh cacchio chi ci faccia quest'ora ma l'uomo sono cacchio ho sbagliato lo sai non lo sai carica 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 cacchio 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 tic cacchio ok io volevo fare una cosa no alice il progetto. se non lo so ma bene a questo un po' che si fa adattivare questo cos'attiva il corso per volare mai giocato l'articolo fara 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 ma solo il gioco per la perezza farlo vai tutta la scelta e non si spara per te un po' di spazio ok perchè ha portato la bomba ora giocciare il suo capace qualità ok un po' di ammortizzare per gli spazi per questo testo E' morto mister G! Si ho consigliato! E' morto mister G! Allora, guarditela! Molte le cose! Non mi vuole la bianca! Un piede alla piedra, mister G! Mister Costa Fester! Mister Goon! Mister Goon sei! Non è vero! Mister Goon! Mister G! E' in te! Saltito, poveracce! Ma noi! Ma dai che! Ma che hai il mio anno? Ma che hai il mio anno? Io non sono morto ma quella volta, ti ricordo! E lo so! Ma tu mori! Tu mori a mattare! Tu mori a mattare! Tu mori a mattare! Ma io tu mori a mattare! Oh! 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 Calati! Si! Calati adesso! Calati! Ah! Ma che fare è! Ma fangelo! Noi fangelo! Dove il poltero eh? Ah! Confonde! Scusa! E' a mattare quello? Non so che li doveva mettere io! La vita ce l'hai proprio oltre! Oh! Riuscirà il nostro eroe a passare un livello di più preciso? Oh! Ma dai! Avevo più! Aveva a disposizione la bomba e non l'ho usata! l'ho usata prima quando non c'era motivo Grazie! e allora di buonanotte la l'insegnamento il popolo sito parlare a un po non bisogna pagare è il vecchio saggio che è ok ok basta chiediamo questo video possiamo valutarlo possiamo valutarlo questo video e allora diciamo è si approvato approvato da game hover possiamo salutare ciao 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 saluto